Dati ancora negativi ma le prospettive sono rosee possiamo dire. Diciamo che lo studio congiunturale che oggi presentiamo ha finalmente delle tendenze che volgono al bel tempo, nel senso che c'è stato sicuramente nel primo e nel secondo trimestre dei dati ancora negativi, minori ma sempre col segno meno, in parecchi settori. Noi abbiamo analizzato meglio lo studio e fonte Unione Camere e Istituto Tagliacarne, è importante perché spesso noi abbiamo tanti studi ma bisogna sapere un attimino come sono certificati, chi li ha effettuati e quindi se le fonti sono autorevoli. Nel caso in questione la fonte è assolutamente autorevole, i dati dicono che c'è ancora elemento negativo nel secondo trimestre ma per il terzo trimestre i segnali e il sentiment di tutti gli operatori economici è un sentiment positivo che poi fa il paio con quelli che sono gli indici che anche a livello nazionale stiamo registrando. C'è da dire che nello specifico dovremo fare una valutazione nei settori e all'interno dei settori, mi spiego, c'è il settore manufatturiero, servizi e commercio da valutare. In questi settori, soprattutto nel manufatturiero, ci sono alcuni comparti che oggettivamente danno segnali positivi, le industrie delle gomme plastiche, le industrie chimiche, l'industria delle elettrotecniche e delle elettroniche già hanno segnali positivi. Le altre che sono in arredrato, anche come per esempio lo stesso agroalimentare, però diciamo che la proiezione per il terzo trimestre sono assolutamente tutte col segno, più il sentiment degli operatori economici è tutto un sentiment positivo. Un'altra cosa però da segnalare è la differenza che c'è nei dati registrati nell'ambito dello stesso settore tra aziende tra più di 10 dipendenti e al di sotto di 10 dipendenti. Quelle molto piccole, sotto i 10 dipendenti, oggettivamente scondono ancora un periodo di crisi significativa che ci fa meditare perché probabilmente l'accesso al credito è più complicato perché scontano una maggiore difficoltà nell'interloquire anche con la burocrazia e quindi ci sono elementi che riguardano soprattutto l'artigianato datene presenti perché lì i dati sono ancora negativi. Meno 4% per il commercio, stanno per arrivare i luci di artista a Salerno, quale sarà l'impegno su questo fronte anche dell'ente? L'ente valuterà come ha sempre fatto negli anni passati tutte le iniziative che in qualche maniera debbano poi dare ritorno all'economia del territorio. Quella delle luci di artista è un'iniziativa significativa, siamo credo al decimo anno giù di lì ed è un'iniziativa che ovviamente porta nella città di Salerno un numero notevolissimo di visitatori e quindi un impatto significativo sull'economia del territorio. Poi ovviamente qua non stiamo a discriminare se il beneficiato è più il bar o il negozio di lusso, queste sono cose che ovviamente poi entriamo in particolare che forse è anche interessante fino a un certo punto. Quello che interessa a me come Presidente della Camera di Commercio è concentrare le risorse per fare promozioni nel territorio per quelle iniziative che possono tornare, cioè hanno un ritorno economico, quindi in questo caso le luci di artista andranno valutate con la massima attenzione come è stato fatto nel passato.